a marco abbiamo rotto il ghiaccio qui al pala barton questa amichevola sfondo benefico con con la ravenna per il secondo memoria walter baldacini intanto sempre una bella opportunità no quando si può fare solidarietà con lo sport esatto prima di tutto ringrazio i tifosi che sono venuti numerosi e poi è bello sempre giocare ma soprattutto bello vincere anche se un amichevole contro ravenna e poi mi dispiace perché abbiamo giocato i cinque set quindi ci sono ancora tante cose da sistemare e mancano ancora i giochitori che dovranno arrivare settimana prossima perché ormai tra una settimana ricominciamo anche cominciamo campionato quindi sono molto contento come è andata oggi ecco a che punto siamo ovviamente indietro per forza di cose molti di voi sono arrivati da poco alcuni devono ancora arrivare tra cui anche a in che punto siamo in vista di latina dove comunque sono genere punti in palio in questo periodo siamo nel buon punto in senso che ogni giorno si vede miglioramento ogni allenamento si vede che miglioriamo qualcosa che siamo in crescita del gioco e sicuramente in una settimana prossimi sette giorni facciamo tanto lavoro e arriviamo pronti per il campionato non vediamo ora di cominciare comunque mio quarto anno qua sono molto soddisfatto perché sono ancora qua e credo che ce l'abbiamo bella rossa quest'anno che possiamo fare tanto grazie marco